Nessuna terapia è priva di controindicazioni e quando parliamo di trattamento del dolore, soprattutto il dolore cronico, questo è ancora più vero perché utilizziamo dei farmaci che sono sì molto efficaci, ma che se utilizzati anche a dosi corrette, ma per molto tempo provocano degli effetti collaterali a livello di vari organi e apparati, gastrointestinale, renale, cardiaco, possono dare problemi pressori. In particolare nei pazienti emofidici alcuni farmaci che noi utilizziamo per la terapia del dolore possono provocare alterazioni a livello della coagulazione. Perciò la cosa importante è che il paziente deve condividere con il proprio medico la sua situazione di dolore e insieme a lui decidere quale può essere il trattamento più corretto, non deve affidarsi all'automedicazione, perché questo potrebbe portare poi ad effetti collaterali importanti che si vedono poi anche a distanza di tempo. Per cui sempre trattare il dolore, ma trattarlo in maniera che il medico sappia quali sono i farmaci che il paziente sta assumendo, per quanto tempo, come, che quantità.